8 marzo, festa delle donne, per celebrarle è stato presentato un progetto di arte relazionale. L'attività verrà svolta il 4 settembre a Belluno e ad Auronzo e servirà per sensibilizzare la popolazione sulla violenza di genere. Protagoniste naturalmente le donne con alcune creazioni molto particolari che serviranno a raccogliere fondi per tre realtà del territorio, Belluno Donna, Cooperativa Blister e Onda Rosa. Capofila del progetto, l'associazione bresciana Viva Vittoria. Ogni donna confeziona un quadrato a uncinetto o a maglia di 50 per 50. Ogni quadrato poi verrà cucito in coperte con un filo rosso che identifica la solidarietà al femminile. Questo progetto ha come obiettivo quello di costituire un grandissimo organismo vivente che è formato da tantissime donne interconnesse come le fibre del filato che stanno cucendo. Teatro dell'evento, le tre cime di Lavaredo dove le coperte verranno esposte e un palcoscenico unico al mondo per mettere sotto i riflettori un problema molto presente anche in provincia di Belluno. È la prima volta che la manifestazione non viene realizzata in una grande piazza di una grande città ma proprio ai piedi delle montagne simbolo delle Dolomiti patrimonio dell'umanità UNESCO. C'è questa simbologia collegata anche proprio alla manualità del fare a maglia e quindi queste persone che verranno tutte messe in collegamento l'una con l'altra nella creazione della coperta. Dall'apertura del centro antiviolenza che è stato nel 2004 al 31 dicembre 2020 sono state 1188 le donne che si sono rivolte al centro. Violenza psicologica, violenza fisica, violenza economica. Sono molte le donne che proprio a causa della violenza non hanno un lavoro, non hanno soldi. Chiunque voglia essere partecipe di questo progetto può contattare la pagina Facebook Viva Vittoria Tre Cime di Lavaredo.